Oh, mi scusi, mi scusi tanto signore, sono mortificato. Da quando gli ho regalato quel pallone, Tom ha acquistato sicurezza. Dovunque va adesso, trova finalmente ragazzi per giocare e per fare amicizie. E sono grato al gioco del calcio che ti ha fatto crescere così sano e socievole, Tom. Continua ad avanzare Becker verso l'area avversaria. Ecco tre difensori che gli vanno incontro. Si libera Becker e passa la palla a Diamond. Molto bene, Tom. Patton e Becker avanzano parallelamente verso l'area della Muppet. Molto bene ragazzi, avete fatto bene a separarvi, così anche la difesa della Muppet dovrà dividersi. Forza, New Team, forza. Ioli, un altro gol. Vai, Tom, vai. Prendete le vostre posizioni in difesa. Ok. Benissimo, e non lasciate che segnino un altro gol. Non lo faranno. Lo impedire. Se è entrato in possesso della palla, passatela subito a me. La prossima volta segnerò di sicuro, me lo sento. Ok. Te la passerò subito, Mark. Ora difendiamo la porta, ragazzi. Ma ricordiamo di passare la palla al nostro capitano, appena possiamo. Non preoccuparti, Mark, che non riusciranno a segnare. Diamond continua ad avanzare, mentre la Muppet si è chiusa in difesa. Diamond passa a Mason, che si libera del terzino. Palla a Diamond. Poi a Morris, che continua l'azione. Dai, Jack. Forza, New Team, forza. Forza, Muppet, dai. Fatevi vedere chi siete. Avanza ancora, Morris. Dai, Jack. Partilo a terra. Liberati, forza. Fai del tuo meglio, Tom. Probabilmente questa è l'ultima partita che giochi con questa squadra, prima della nostra partenza. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Forse è l'ultima volta che giocheremo insieme e voglio che abbiate un bel ricordo di me. Si esce a liberarsi Morris? Che scappi in avanti, passa Diamond. Un altro passaggio verso Carter. Ok, proverò io a segnare. Dove crede di andare quello? Carter avanza ancora, ma ecco Green che lo contrasta. Dribbling di Carter. Che passa Becker. Oh, no. Becker scatta in avanti. Evviva! Bravo, Tom, vai! Bene, figliolo. Stupendo lo scatto di Becker. Che continua ad avanzare verso l'area della mappa. Bene, Tom, continua così. Io ti sono vicino. Arriviamo sotto porta. Molto bene, Ollie. Becker, avanza indisturbato. Affiancato da Atton. Ehi, marcate Atton. Arrivo. Danny, tu pensa a Becker. Bene. Becker, continua l'azione. Mello! Non ti permetterò neanche di avvicinarti alla porta. Capito? Staremo a vedere. Ok. Tom Becker, non vedevo l'ora di confrontarmi direttamente con te. Ricorda ancora quando ti ho visto la prima volta. Ehi, accidenti, che tecnica. Eri appena arrivato nella nostra città e ci stavi mostrando quello che eri in grado di fare in campo. Davvero molto bravo. Bravissimo. Perché non insegna anche a noi quello che sai fare? Che ne dici, Tom? Ma Mark non permise che noi imparassimo qualcosa del tuo stile. Non abbiamo bisogno dei tuoi insegnamenti. Ma Mark... Non dovete essere delle femminucce dietro il pallone, ma usare la forza fisica. È chiaro adesso? Io ti ammiravo molto, Mark. E anche ora continuo a farlo. Ma anche se rispetto il tuo modo di giocare, non l'ho mai condiviso. Perché la mia mentalità è diversa dalla tua. Invece sono molto più vicini al mio tipo di gioco, la tecnica e lo stile di Baker. Dove la forza non è così importante come lo è per te. Ho appreso la tua tecnica, ma l'ho messa in pratica a modo mio. Adesso potrò verificare chi di noi due è il migliore, Tom. Continua il duello tra Baker e Mello. Scalza Baker e tira! Non volevo farlo. Mello colpisce la gamba di Baker che fa a terra. Tommy! È un foro. L'arbitro non giudica falloso l'intervento di Mello su Baker. Intanto il gioco continua. Lasciatelo a me, ci penserò io. Ehi, ma che diavolo vorrà fare quel portiere? Oh, arriva Ollie! Accidenti! Anton è scattato in avanti e si dirige proprio verso la porta della Muppet. Cosa vorrà fare? Ho capito cosa hai in mente. Ecco Warner che scatta verso la parte opposta della porta. Vogliono fare il nostro salto. Aston si appoggia al palo destro e salta sulla traversa. È una tipica tecnica dei gemelli d'Eric e della Hot Dog. All'altro lato anche Warner sta facendo la stessa cosa. Saltano entrambi in alto verso il pallone. Rovesciata in aria di Aston, ma Warner prende la palla. Capitano, ho mantenuto la promessa. Ottimo lavoro, Ed. Ora tocca a te, Mark. Devi segnare un gol, ricordi. Sei fortissimo, Ed. Dai, Mark, prendi la palla tua adesso. D'accordo. Andate tutti indietro in difesa, ragazzi. Sono tutti e due a terra, Ollie e Tom. Oliver! Ehi, Tom! Mentre il gioco continua, la New Team si trova con soli nove giocatori validi. E che Reatton sono entrambi infortunati. Danny, vieni con me! Mi dispiace, Tom. Stiamo giocando uno contro l'altro. L'amicizia non c'entra adesso. Ma io... Vai, Danny! Ti muovi? Arrivo! Hai ragione tu. Vado, Tom. Proprio ora che c'era più bisogno di me. Tommy! Oh, povero Ollie. Ora è la Muppet che attacca con l'Anders, seguito da Mello. Con atto dai Bacchini infortunati, viene a mancare un maridissimo sostegno alla New Team in un momento delicato come questo. C'era fra la rimbattibile Benji Price da solo? Con atto dai Bacchini infortunati, viene a mancare un maridissimo sostegno alla New Team Con atto dai Bacchini infortunati.